A 37 anni dalla sua scomparsa abbiamo riempito una sala oltre alla sua capienza, molto oltre alla sua capienza, veramente un uomo e una leggenda, Gilles Villeneuve aveva dentro il suo DNA la velocità e quindi il connubio automatico dell'autodromo di Monza che è il tempio della velocità. Una bellissima giornata con veramente tanti appassionati, tante persone interessate e interessanti. Nella giornata di oggi abbiamo parlato molto dell'aspetto umano di Gilles Villeneuve e abbiamo parlato della metamorfosi che negli anni la Formula 1 ha avuto. Certamente la Formula 1 di oggi è un po' più asettica rispetto a quella di un tempo ma ancora riesce a generare grandi emozioni. Il nostro auspicio e il nostro lavoro è perché la Formula 1 si è sempre più emozionante, interessante, divertente e perché miti come Gilles Villeneuve continuano nei secoli. Grazie a tutti.